oh ciao nino sono così felice di vederti io e la mia elfa vivia stavamo cercando una pagina del tuo grande libro penso che un elfo birichino volesse guardarla e abbia dimenticato di rimetterla al suo posto oh l'hai trovata oh ma guardati hai due anni non è vero e ami giocare con i giochi non è vero che bello si vivia ora mettila al sicuro nino puoi usare la mia console polonordo portatile quando vuoi ci piace averti con noi abbiamo tante sorprese in serbo per te ciao ciao e buon natale